E' bastato poco per mettersi d'accordo tra Cessidio del Beato e la SD Ovidiana Sulmona. Il matrimonio è stato celebrato in pochi istanti con il tecnico di Vittorito che nella giornata di mercoledì ha accettato la proposta di allenare i biancorossi. Si è sviluppato negli ultimi giorni, quindi praticamente ieri abbiamo concluso l'accordo. Sono molto felice, dopo aver parlato col presidente sia degli obiettivi, sia della rosa, sia di quello che dobbiamo fare, abbiamo trovato subito l'intesa. Queste le prime dichiarazioni di Del Beato da allenatore dell'Ovidiana Sulmona. Il lavoro è cominciato con la seduta del giovedì a Bagnaturo nella prima parte atletica e nella seconda con una partitella a metà campo. Questa è una squadra di bravi ragazzi, di buoni giocatori, ma tantissimi giovani del posto peraltro. Li conosco, alcuni di loro li ho pure allenati. Al momento noi vogliamo consolidare questo gruppo che c'è qua. Comunque la parte sua l'ha fatta. L'obiettivo iniziale che avevano dato agli altri allenatori e che hanno dato anche a me è una salvezza anticipata. Ovviamente non ci poniamo degli obiettivi, dei limiti e cerchiamo di fare di più di quello che ci chiede la società. Per Cessilio Del Beato si tratta della prima esperienza in promozione come allenatore. A 54 anni, quasi 55 anni, si presenta questa opportunità. Nel calcio mai dire mai, è vero? È una grossa opportunità. Ringrazio chi mi sta dando questa grande opportunità. È inaspettata, perché francamente tutto pensavo non di allenare il Sulmona, che peraltro nelle ultime settimane stava peraltro facendo anche bene. È vero che sono arrivato tardissimo a allenare la promozione, però ci ho giocato per tanti anni. Quindi la categoria la conosco e spero di dare il mio contributo. L'esordio ci sarà domenica nella trasferta a Fossa Cesia. C'è da lavorare. Il campionato è lungo. Bisogna fare punti subito, cominciando da domenica col Fossa Cesia, e cercare di raggiungere l'obiettivo della salvezza prima possibile, valorizzando i giovani.